È il momento dei miei consigli e trucchi del mestiere. Ecco come cucinare una bistecca nel modo in cui desiderate. Se volete una cottura al sangue, toccando la bistecca con un dito, la carne deve essere morbida come il palmo della vostra mano. Così significa che ha sangue. Più cuoce e più indurisce. Questa è la cottura media, che oppone una leggera resistenza. Mentre ben cotta è qui. Al sangue. Per cuocere la carne o il pesce più velocemente, basta praticare delle incisioni e il calore penetrerà più rapidamente. Inoltre i condimenti verranno assorbiti più in profondità. Per non macchiare i recipienti, rivestiteli di olio, che farà da barriera tra la plastica e il cibo. Preparare lo sherry al peperoncino è facile e può servire nelle salse o nei soffritti. Versate con un imbuto 450 ml di sherry secco in una bottiglia sterilizzata e aggiungete quattro peperoncini. Chiudete con un tappo e lasciate in infusione per due settimane. Se avete dei semi di peperoncino sfusi, vi consiglio di piantarli per far crescere nuove piante. Metteteli in un guscio d'uovo o in un vasetto. Teneteli in casa e quando sarà il momento travasateli.